dici si è anche siamo non siamo più lontani rispetto a dove era stato fatto il fallo sicuro l'area la zona parte l'unico tavarese col mancini in mezzo teso gol è il gol di mario gila e la lazio in vantaggio svetta di testa sul cross di dunio tavarese e la lazio è 1 a 0 a firenze bravo gila a svettare di testa ci aveva già provato due volte alla terza in sacca sulla palla forte tesa tagliata di dunio tavarese colpisce di testa e in sacca 1 a 0 proteste per la fiore della fiorentina non so se forse nel posizionamento di gila ma no qual è il posizionamento di gila ragazzi nulla ragazzi gila salta prende il tempo nettamente è lui che viene braccato dal difensore che lo tiene in tutti i modi che vuole non esiste cross è perfetto avevamo detto abbiamo trovato il battitore di posizioni ragazzi il crozzo è pennellato vabbè ragazzi c'è sto piedino messo in quel modo la palla esce per forza morbida e finalmente alla terza occasione gila dopo che per due volte era saltato di testa e aveva preso il tempo agli avversari alla esultanza la milinkovic tra l'altro di gila che fa il sergente in questo caso posizione si quasi da trequartista eccolo lì al limite della rigore leggermente spostata a sinistra quindi si dai dovrebbe essere questa una sorta di 4 3 2 1 per la fiorentina gira intanto stacca di testa bisogna allontanare questo pallone che ancora loro eccolo Gudmundson rigore rigore gendusi è entrato in ritardo su questo pallone come ha stoppato la palla che Gudmundson che se l'è un po' allungata ho tremato perché ho detto adesso entra questa è casualissima chiaramente la situazione forse poteva indugiare però solo così è stato sicuramente ingenuo in questo caso la palla lunga ho tremato subito e chiaramente si è fatto anticipare se vuoi fare l'anticipo sebbene anticipato non doveva ingolosirsi dai porca miseria che ingenuità pazzesca troppo ingenuo così dai ragazzi ma no perché lì guarda come la palla la stoppata in quel modo che sarà allungata perché ha sbagliato lo stop immediatamente ho detto di ora si entra perché è un classico e infatti lì bastava di dubare si è procurato il rigore e va a calciarlo comunque c'è a me fa impazzire sta roba mamma mia ebbè ma doveva hai scritto veramente scritto proprio nei libri del calcio della Serie A 24-25 questo entrava e dopo un secondo lo segnava a noi 48 minuti 12 secondi Gudmundson contro Provedel 11 metri 3-2 se chiamo chi avrà la meglio fischia l'arbitro parte Gudmundson con il destro spiazzato Provedel pallone da una parte palla dall'altra la fiorettina pareggia dopo soli tre minuti del secondo tempo sì incredibile alla fine a certo punto ragazzi ha fatto un'ingenuità che non può fare c'è un giocatore dell'esperienza di Gudmundson non può mai forzare quel tipo di entrata lì perdonatemi possiamo dire quello che vogliamo scritto che entra Gudmundson fa gol tutto quello che ti pare ma Gudmundson uno come lui cioè paradossalmente se me la fa Castrovilli che nella sua vita fa il trequartista e oggi sta giocando centrocampista lo posso pure capire ma Gudmundson no Gudmundson non può mai fare quel tipo di secondo me è un errore proprio stupido è proprio un gra è un gravissimo errore a maggior ragione che sei entrato adesso cioè comunque il secondo tempo è appena cominciato io ribadisco che la Lazio purtroppo ha preso tutti i gol per errori individuali di gestione del momento cioè è una roba proprio tutti i gol che ha preso la Lazio tutti per delle letture sbagliate degli interventi fuori tempo delle tese perso l'uomo cioè non è una cosa incredibile ed è è capitato a tutti è capitato all'uomo d'esperienza al giovane al terzino al centrocampista a chi fa di mestiere il difensore è una roba incredibile anche questo chiaramente lo vai a prendere al terzo minuto del secondo tempo che quindi fondamentalmente un po' come con Ludinese nel momento in cui magari provi a far qualcosa qui hai preso il gol e lì hai chiuso la partita e qui chiaramente ce l'hai rimesso in gioco la Fiorentina che nuovo schieramento pareggi in questo modo ora sarà tutta l'inersa da parte loro questo è fallo questo è fallo questo era fallo su D.A. non fischiato al centrocampo sì è chiaro adesso chiaramente bisognerà resistere adesso in questo momento in cui la Fiorentina attaccherà qui Zaccani non può farsi prendere così di imbucata per fortuna la palla è lunga e può uscire tranquillamente però vedel adesso bisogna resistere adesso in questi in questi minuti in cui la Fiorentina chiaramente attaccherà e lo farà con forza bisogna essere molto attenti sotto questo aspetto e poi continuare a provare a fare quello che la tazza ha fatto nel primo tempo senza senza concedere metri senza concedere spazi poi multipalloni Zaccani non ci arriva ma come ha fatto ma era tutto regolare ragazzi sì 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 no ragazzi no e credo che Dodo gli si sia messo davanti non gli ha ciaccato una mano secondo me un po' era regolare era regolare secondo me sì no non l'ha colpita l'ha toccata Dodo l'ha anticipato Dodo ma non ho capito ma non ha provato neanche a colpirla è questa la cosa grave non ha provato a calciare ma è come se si fosse perso c'è la terza partita dopo il Milan e dopo il Verona che Zaccani all'occasione a due metri dalla porta ragazzi questa è non so se è più grave questo o quello di Guedonzi Guedonzi come si chiama comunque Dodo si è rifatto male sul polso che l'ha già affasciato cadendoci a terra no veramente una relazione ben congeniata questo taglio della palla che va dentro che è lontana dall'intervento dei difensori perché rischiano di fare autogol ma è anche non a portata di De Gea del portiere però lì se ci devi andare con cattiveria devi andare da centro avanti cioè devi 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 aggredire il pallone e scaraventarlo verso la porta lui non c'è l'ha sta roba eh lo so che non c'è l'ha certo che sì non è velenato magari ecco un'altra punta il peccato è che se in quell'occasione ci fosse stato uno tipo Castellanos esce Mandragora e entra qua a me sono quattro attaccanti pure loro parte Zaccani con il destro in mezzo che tu sì no la palla sulla traversa non ci credo no non ci credo il palo con la nuca va colpito non ci credo e qui già l'ho manito Patrick madonna benedetta però che giella incredibile siamo andati ad un centimetro l'avevo vista praticamente dentro perché era il lato scoperto ma perché De Gea era completamente fermo e spiazzato aveva fatto un colpo d'astuzia pure fortunato non lo metto in dubbio ma che c'ha no no l'ha presa perché una volta che mette il piede andiamo un po' guarda che aveva fatto traversa palo cioè che è successo? no traversa e poi la palla è finita quasi all'altezza della riga di Porto mamma mia che sfiga mamma mia che giella e poi anche qui sulla ribattuta mentre la prima ribattuta schizzalato mamma mia mamma mia e vabbè quindi non è finito il campo qua ha fatto 3-4 parata abbastanza mi sa che Tavare se gli ha dato gli è entrato però quando era fuori dal campo credo stai mi sa che gli è entrato nella scivolata comunque come funziona in questi casi cioè se lui gli dà la zaccagnata fuori dal campo è punizione il campo è finito vedi non può essere fallo è fuori dal campo non lo so come funziona sicuramente può essere rigore perché è fuori dalla tanto bisogna capire poi se è fallo ragazzi vabbè perché gli dà il colpo glielo dà dai si vede che il colpo glielo dà no no ma io ragiono proprio così in esagerazione perché cioè proprio dal punto di vista del regolamento perché entra e lo tocca fuori dal campo quindi il rigore non può essere perché il rigore è finita ma che succede? ma che stanno guardando? secondo me stanno guardando se il tocco glielo dà in area di rigore o no se è sulla linea o no infatti quindi si giustamente ma che stanno guardando che è fuori dal campo check in progress non so da un punto di vista dei commentari ragazzi io ammetto in questo caso che anche io assolutamente ignorante sì assolutamente cioè non capisco stiamo parlando di un caso limite cioè ma non mi può dare un calcio di rigore no no ragazzi no ma che stavo a scherzare no ragazzi dai ma che stavo a scherzare ciao se il rigore è fuori dal campo è la prima volta nella storia ragazzi guarda l'unica cosa se lo prende è ancora sulla linea l'unica cosa no ragazzi non ci posso non ci posso credere è sulla linea maledizione no no questi gli danno il rigore è sulla linea questi gli danno questi gli danno se è in linea ragazzi aspetta però è sulla linea eh questa sarebbe l'inquadratura giusta per me non è sulla linea per me è oltre per me è oltre ma no no è sulla linea ma che iella ragazzi non ci posso pensare se è in linea non ci posso non ci voglio proprio credere che pizza che palla due rigori identici identici nello sviluppo questo tra l'altro del tutto casuale perché no ragazzi vi prego no questo io lo sta a dare se sta a consulta questo io lo da rigore ha detto mamma mia che clamoroso ragazzi rigore all'ottottottesimo pazzesimo io continuo a ribadire che giorno che mi vedrò assegnare due rigori in casa per vincere due euro non ci voglio credere brinderò a a qualsiasi cosa brinderò a qualsiasi cosa non ci posso credere è una roba proprio mamma mia infatti il dubbio il dubbio potrebbe essere soltanto quello dominata dominata potrebbe essere soltanto quello il dubbio non ci voglio credere questione di centimetri anche qua ma dai casualissimo cioè adesso comunque sta storia che non puoi fare un intervento non puoi fare niente perché come tocchi come tocchi l'avversario in qualsiasi modo questo è in cross che è andato cioè il cross è passato l'hai riuscito a colpire bene non gli ha dato fastidio nel cross cioè un fallo susseguente dopo completamente diverso da quello che è stato per Gudmundson all'inizio del secondo tempo perché lì Gudmundson è in possesso la palla la sta giocando lì ha crossato azione finita per Dodò io impazzisco su certe cose ragazzi impazzisco proprio non si sopportano ancora Gudmundson un minuto dopo che ha preso la traversa ancora Gudmundson dal dischetto contro Provedel 89-25 rincorsa breve per Gudmundson ripetizione del rigore battuto dopo tre minuti del secondo tempo l'arbitro chiama tutti fuori dall'area di rigore salta Provedel all'altezza della porta parte Gudmundson col destro centrale ancora una volta spiazzato Provedel che si butta ancora una volta sulla sua destra e la Fiorentina si porta in vantaggio all'89 pazzesco pazzesco una partita veramente senza senso l'ho detto a più volte e la perdi in questo momento all'89 senza senso senza un senso no non è un senza senso Paolo tu la perdi perché per due episodi assurdi per due episodi dove prendo poca attenzione ma questo non ha nessun nessun non c'ha nessun colpa secondo me Tavares che va a giocarsi lo sprint con Dodò la partita la Lazio ha giocato secondo me molto meglio della Fiorentina molto più presente in campo molto più pericolosa hai appena preso una traversa per tuoi meriti e non per demeriti come era stato il palo che prende la Fiorentina la Lazio secondo me perde una partita senza senso la Lazio dopo dieci minuti dove si è riassestata era tornata a giocare ragazzi ci saranno come minimo sette minuti di recupero hai creato tre situazioni pericolosissime col tiro di Kendusi il tiro di la traversa di Kendusi il tiro di Petro cioè la Lazio era tornata a giocare la Fiorentina ruba una partita la ruba dal punto di vista dell'impegno in campo delle prestazioni in campo non perché poi i rigori in c'era perché purtroppo secondo me la Lazio ha dominato i rigori della VAR la Lazio secondo me invece la partita è fatta con tanto senso e comunque voglio vedere il recupero perché no 5 minuti ma di più hanno fatto 80 sostituzioni 80 sostituzioni non devono essere 4 minuti il VAR quanto è durato 5 minuti è malatrata 5 minuti solo con questo VAR mi sembra una cosa no ragazzi è proprio una cosa con tutte le sostituzioni tutte e due hanno fatto 5 sostituzioni due VAR ci sono stati ragazzi due VAR quell'altro rigore era un VAR no no non era un VAR ah no quello non era un VAR l'ha dato l'arbitro subito mi dispiace ma no ma 5 minuti è una partita molto molto sfortunata cioè la Lazio secondo me l'ha fatto tutto bene anzi secondo me purtroppo la cosa che non ha fatto bene è che non è stata così cattiva in area di rigore in alcune situazioni se penso pure alla giocata di Zaccani che non ha tirato cioè sono state io ribadisco cioè vai a vedere non conteranno nulla è incredibile dopo il colpo di nuca di quei dozzini ma i diri in porta saranno tipo 12 a 4 12 a 5 una roba del genere è